Bisogna fare risultato anche perché dopo Pisa, subito dopo, arriva un altro big match, quello contro la Cremonese e arrivarci magari dopo due sconfitte significherebbe dover gestire non solo una squadra magari un po' più demotivata ma anche una piazza che potrebbe rumoreggiare se dovesse ancora vedere lo zero in classifica. Quella che a tutti gli effetti è stata una sconfitta data da tre fattori, la condizione non è eccelsa perché dopo 60 minuti il Palermo ha smesso atleticamente di giocare. Contestualmente c'è stato anche un'avanzata del Brescia che ha preso campo e una difficoltà, e questo è un dato su cui Dionisi deve lavorare, di tirare in porta perché poi alla fine resta un dato incontrovertibile contro il Brescia, il Palermo ha smesso di tirare nella porta avversaria al 54esimo minuto con il tiro di Diachite. Dopo si è spenta la luce e il gol meritato del Brescia è arrivato praticamente al fotofinish. Da questi errori, da queste disattenzioni, si riparte contro il Pisa di Inzaghi, altro allenatore che il City aveva opzionato, con cui aveva fatto un sondaggio proprio per la panchina del Palermo. Il tecnico attuale Dionisi dovrà dimostrare il proprio valore, dovrà dimostrare quello che ha fatto ben vedere questa squadra nel ritiro precampionato che ha dimostrato un gruppo unito, una squadra competitiva, ma che si può nettamente migliorare, ed è una squadra che però deve prendere maggiore consapevolezza anche dei propri errori. Poi c'è Cremona e a Cremona, contro quella che è da tutti, è considerata la big del campionato, al pari del Palermo, la squadra che ha fatto il miglior mercato, ci vorrà il miglior Palermo. Anche perché lo scorso anno contro la Cremonese fu lo spartiacqua proprio della stagione. Lo ricordate tutti, alla fine del primo tempo il Palermo vinceva 2-0 ed era secondo in classifica alle spalle del Parma. Nel giro di sei minuti del secondo tempo invece ci fu il tracollo e da lì la squadra ha perso consapevolezza, ha perso fiducia nei propri mezzi e scivolò velocemente in classifica. Adesso la storia è un'altra, Pisa e Cremona sono due partite difficili ma sono per il Palermo assolutamente abbordabili. Dalla conferenza stampa di Dionisi abbiamo visto un tecnico che è molto concentrato, che non cerca scusanti, che sa che Brescia può essere un incidente di percorso come molto probabilmente ce ne possono essere anche altri. Sono insidie di un campionato lungo e complicato come quello della Serie B ma forse la Serie B è bella proprio per questo.